E benvenuti ragazzi, io sono C.D.R.S.T.E. e oggi vi do il benissimo episodio di Fortnite Siamo arrivati l'ultima volta con un po' di news, tra cui l'ultima Star Wars che torna su Fortnite questo maggio, oggi vi do la news del 4 maggio Chica lascia il pubblico a becco aperto nella serie Icon di Fortnite Chica, ok, 4-5-22, trattini forti, attenzione Pollos, Chica è il prossimo creatore della community in arrivo nella serie Icon E se la serie Icon di Chica sarà disponibile nel negozio oggetti a partire da domenica 8 maggio 2 alle 2 ore italiana Chi vuole far uscire dal nuovo in anticipo il suo costume e il suo ricordativo può competere nella Coppa Chica 25 maggio Per avere la possibilità di bloccare 4 oggetti in uno spray speciale Set Chica diventa la serie della squadra Il costume Chica ha 5 stili diversi Oltre a 5 stili diversi Oltre a 5 stili diversi ci sono screziatura, prismatica, screziatura reale, occhiale da sole e maschera da caccia In immagine si sarebbe definito stile screziatura, prismatica e stile screziatura reale del costume Chica Collabito Chica è incluso il suo ricordativo stile di Chica che ha lo screziatura reale del costume Un'altra proprietà nel arrivo al negozio oggetti a ferro il piccone lama di Aida e brandiscilo con amore e gioia Anche questo ha lo suo alternativo schreziatura reale E quando non sai quale sarà il tuo prossimo passo in battaglia Vai sul suo corso con l'emote baro del cocodè Conosco Potrebbe essere un po' copyright Coppa Chica Uno storm di concorrenti Fai un salto alla Coppa Chica che si troverà il 25 maggio In questa Coppa ha coppie zero costruzioni La regia è per poter sbloccare il costume Chica e lo strumento attivo a stare di Chica Prima che arrivino nel negozio oggetti In uno di tutti i giocatori che totalizzano almeno 8 punti sbloccheranno lo spray Chica e lo spray Chica è stata qui Gioca fino a 10 partite entro la finestra temporale di 10 ore dell'attuale regione Le tempi chiesate dell'evento per ciascuna regione sono riportate all'interno della scheda da compiti Qualcuno che ti tiene immagini e lo spray Chica è stata qui Prima di tornare il ponteggio funziona nel seguente modo Passamento partita Vittoria reale 25 punti Secondo 22 punti Sesto 20 punti Quarto 18 punti Quinto 17 punti Sesto 16 punti Sesto 16 punti Settimo 15 punti Ottavo 14 punti Nonno 13 punti Dessimo 12 punti Unicesimo 11 punti 12 punti 13 punti 13 punti 14 punti 14 punti 15 punti 16 punti 16 punti 17 punti verificata sull'account epic avere un livello account 50 o superiore potete fare il livello account a carriera di fortnite per voluti dettagli e liquidi di dignità consulta la pagina del commento ufficiale della coppa cica è lungo quindi ragazzi esitetevelo voi sblocca lo spray galletto mentre guarda gli streaming aggiornamento a caso di errore lo spray pollito non sarà più spendibile come scompense di un twitch drop invece durante il settimana di lunedì il 9 maggio daremo lo spray pollito a giocatori che hanno giocato almeno una partita nella coppa cica o che si sono messi a prova nel corso divertente di cica per festeggiare l'arrivo di cica nella serie icon potete bloccare lo spray pollito semplicemente guardando i tuoi streamer di fortnite preferiti tutti gli spettatori che guardano un'ora totale di forza twitch alle 16 a 6 maggio alle 4 dove maggio o italiana due cano spray spray assicurati che tu che tu che tu e canto di epic twitch sia collegata per tenere il drop e potremmo ripetere questo drop di twitch allora un po' perché acqua fare un collegamento ragazzi sfreccia come una metriola nella corsa divertente di cica come pensano i pollos nemmeno cica è immune dalla minaccia dei danni della caduta nell'isola creativa cosa divertente cica è realizzata dal team dei creatori kyber creative creative potete volare lungo una corsa a ostacoli con parecchie cadute il codice per questa esperienza è 8 4 3 2 7 1 9 9 6 3 7 8 alza la crescita con una set cica per essere disponibile ok ragazzi video di oggi finito come sempre questo video vi sia piaciuto se il video vi è piaciuto mi raccomandoci un bel mi piace commentate condividete iscrivetevi al canale attivate la campanellina seguirmi su instagram che ho la cd di tetra basso y tetra basso ufficiale ragazzi un bacione e il vostro cd di tetra è tutto bella ragazzoli ciao